Oh, ben trovate qui su un gioco incredibile da me e Synergo. Esatto. Andiamo verso il castello nero. Dark. Andiamo. E c'è l'uomo fumo. Sono Synergo. Sì, bravo. Questa puntata sono Synergo, non sono Marco. Va bene. Andiamo Redez. Io non sono Redez, sono Undyne. Andiamo Redez. Sono Undyne. Andiamo Undyne, Redez. Fammi... Cassinare. Sono bravo. Che male! Mamma mia, fammi fare a me che non sei buono a te. Guarda. Tac, tac. Cretino. Prepotente. Guarda che non è buono a fare niente. Non è buono. Fammi fare. Tan, tan. Tan. Tan, guarda che ladro. Orchi, orchi, mostri. Ostia, questo è grosso. Questo è stato dalle botte potenti. Si è ingazzato, rotolo. Oh, che botte nella crappa. Aspetta, per rendere mazzato. Aterazzi. Ah, scusa, penso che dovessere io. Cretino. Ho sbloccato le sole. Ho preso la magia, ho preso. Questo mi dà 50 HP e mi fa... Le ossa sono deboli, però adesso. Quello ci penso io. Lo facciamo proprio e siamo tutti sbarallati. Esatto. Hai visto cosa mi ha dato? Ho preso tutto tu, prendi. È solo uno era. Ma non serve un cazzo. Uccidere i nemici mi ripristina la mana. Ma non serve un cazzo. Vabbè, puoi spammare... Abbiamo finito il primo livello. Allora? Ah, la testa, la testa. Guarda che sono il migliore. Ok, questo è il secondo livello. Il secondo livello è complesso. La difficoltà si fa sentire. Non è vero, non è vero. Attento ai barili! Mamma mia! Hai visto? Gli ho fatto la mossa quella di Cesano. Chi è Cesano? Ho fatto le belle Cesane. Bello, bello, quello me lo ricordo. Puoi fare tutto questo giro, magari sei buono. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Hai visto? Che perfetto. È il puzzo! Ma questo lo prendo io, che faccio... Ma non serve in realtà, però vabbè. Che puzza, adesso scorreggi. Ma che cazzo, guarda che puzza che fai. Ah, aiaia! Ma aia! Scusa, che Dio! Quelle erano gratuite, erano. Allora! 60! Dai, che dolore! Un mofallico! Ce l'ho preso la mano! Possiamo buttarci di sotto, però, quindi è pericolositissimo. Esatto, è male. Due di vita, due di vita. Sì, l'hanno fatto. Era quella la mossa di Cesaro. Sì, bravo. Buonamici. Cesaro Buonamici, che è il titolo del video? La mossa di Cesaro Buonamici. Bravo, Mario. Cosa c'ho adesso? Ah, ho la fobia delle... C'è... delle treasure, delle casse. Bravo. Fotto anche la bocettina. Guarda, lo faccio tutto tremolante. Ah ah... Ah... Ah ah... Ah ah... Sono fortissimo. La ciolo! Non puoi ciolarla. Blocco tutti i colpi. Ah, fammela prendere me. C'è la sfada lunga. come l'ho zazzato che botte da orbi scusami li abbiamo spaccato il culo a questi che paura dai come hai fatto lì eeeh aaaaaaah mmmm aaaaaa 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 e quanti sono a che stomaco cos'è? la bevo cos'è? e quanto sono? e piccolissimi e' finito il bidetto proviamo ancora io ho il migliore attento che l'apriamo succede il 15-18 io sono una mignotta Cosa vuol dire? Aspetta Mi rompo i vasi Sono Sara Tommaso Ho fatto, prendo la sabra Ci sono i molleggioni qui Li prendo, cosa fanno? Gli ho rotto le falle E quanto sono saltato in alto? Concentrazione Nelle vespine Nelle vespine Adesso, guarda cosa succede, Moro Che culo, Marco Guarda, guarda quando salta Io sono un asinello Sì Luca, hai ragione, la tieni La burro birra qui Ho i piedoni Ah, i soldi E quale prendo? Il demoniaco Ma sì, che tira le palle di fuoco Allora io prendo questo Moro, che paura Ho 5 di vigna Ah, ho preso un pannino Che buono Sono morto Bravissimo Lo butto, lo butto Guardami Sono un demone Bravo Sei proprio il fantasma di Synergo Allora Ti salvo la vita, cosa vuoi? Che pari Ti proteggo Ah, è vero che ti aiuta lo stesso Che c'ho l'uccello Bravissimo Perché c'è un uccello Dai, non ci avevo pensato All'arma brutta Eh, ma che muttana Sono un uccello E' parte che non è un uccello Ah, questo c'è l'achievement Se uccidiamo questo Perché non ci sono io? Lo colpisco Quello a veleno Faccio malissimo Faccio Crettino Che c'è un mongoloido Stupido Chi? Tu Eh, ma mi ha dato una botta C'era l'achievement Eh, ho sbagliato Scusa Cosa fa il battle mage? Non lo so Non ce l'ho Sono? Sono già tutte le magie C'ho praticamente C'ho il Synergo del Mexico Dai, guarda che sono mago Comunque io Synergo Un bacio in bocca con la lingua Glielo dare Che dolore Crettino No, qui c'è il boss Ma subito? Ma maledetti voi Lo picchio io, moro Dai, io gli tiro le botte Da lontano Voglia di spendere Fantastica Tutto in Video Che forza Che quando colpiscono Mi danno la pizza Sono Michelangelo No, Leonardo sono in realtà Sì, sono il gene delle tartarubie È vero Dark Souls style Che palle tutte Era più bello quando scureggiavo Però mi divertivo di più Magia Magia Io la magia Io, deficiente Io la magia Claudio Claudio non lo prendi? Ah sì Sì Aspetta che devo fare l'uovo Ma porca laga C'è una gallina Questa cosa fa? Questa cosa fa? È fortissimo il Gladio Ma perché non lo prendi te, cretino? Perché è quella velenosa questa Che cazzo me ne frega Vabbè, lo prendo io Tanto io sono una sega a combattere Questo è veramente un cretino Comunque Guarda te Guarda te Mi spacco Dai Cesara Chi è Cesara adesso? Non lo so Ah, devo fare l'uovo Marco Sei tu, sei tu Ti proteggo Aspetta dove vado a fare l'uovo? Aia ma coglioni Io ho rotti alcuni Ah però le magie le posso fare con Eh beh sì Non puoi fare le otto che i film No, non è vero Non è vero Hai fatto il muro È solo quello Uno scrignio A gratis È una pozione di culo Sono ancora un asino Ah, l'ho aperta così? Duplica Non raccogliere niente Fermo Fermo Duplica un oggetto E ti ho detto non raccogliere niente Ma ho raccogliato solo le monete È stata solo la moneta infatti Ma vaffanculo Doveva raccogliere le monete allora No Cioè praticamente ti duplicava un oggetto da per terra Eh ma ha duplicato la moneta Allora vuol dire che una l'avei lasciata per terra Ma il cretino Non me le hai fatte raccogliere Hai ragione Devo fare il contrario Questo qui è sufficiente Vai Gladio Facciamo l'attacco sinergico Sono io sinergio Ho 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 hotels Eh eh Dioolto la faccia Cognone ci sono Ho iià Cos'è network this incap Cos'è sto pulsantone nel mezzo Mamma mia Sono Mario Eeeh Ehhh Eeeh Ehhh E Bizim E vedete Quando si Ma quante scritte assають Sendoci sopra per poterlo far tornare in vita altrimenti diventi l'anima dell'immortale esatto c'ho 4 di vita amaro siamo spacciati adesso resusciti automaticamente che culo ma perché prendi tutto te mi servono da me le magie tieni cosa ci faccio che la metto nel culo ma non devi stare tranquillo ma guarda che va che tutte le magie c'è il freezing ma si ma c'hai la quello che ti protegge l'elettricità è fortissima di cosa ti lamenti eh che perdo vita vabbè quello può capitare in questi giochi dai mi curo io so 4 di vita no cos'è cos'è? che balle corro per sempre sono inciappolato qui per un soldino mamma quanto è bella quella lì ma sono morto tu sei una merda fammi trombare vala eh perdonami sono 9 di vita imbarazzo 8 di vita le vecchie le vecchie te le tengo è vero che scorreggio gli do fastidio io rompi rompi sei di vita ma stai rotola rotola ma non posso rotolare ma portare non puoi rotolare nooo mi ribatterebbe già una merda adesso il video finisce qua però noi continuiamo a giocare fino alle 7 di mattina grazie di averci seguito in questo nuovo gioco saluto da Valerio Staffelli e Sinerg saluto da Valerio Staffelli e Sinerg io non so Valerio Staffelli ma tu sei sempre... come si chiama quello che hai detto prima? Undyne e di chi è quel personaggio che non lo so? Dagan Romba? Undertale ma l'ho detto prima ma avete detto di no ho detto Undertale la prima cosa che ho detto con la robie che mo spagliaccio stupido stupido spagliaccio dolore dolore aia che dolore